. Bentornati sul Canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Anche negli show televisivi possono succedere degli imprevisti Vediamo cosa è successo a Caduta Libera da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. . Lo show Caduta Libera va in onda tutti i giorni, incluso il sabato e la domenica su Canale 5 Gerry Scotti, il più amato della TV.Anche se la trasmissione condotta da Gerry Scotti, Caduta Libera, quest'anno ha avuto un avvio piuttosto polemico, il conduttore si augura di farla arrivare ai consueti record Del resto, proprio lui è uno dei personaggi più amati della televisione italiana ed è stato il responsabile del successo di moltissime trasmissioni televisive Per quanto riguarda Caduta Libera, Gerry Scotti si sta preparando superare il traguardo delle mille puntate Lo show ha lanciato diversi personaggi più o meno famosi. Stando al parere di Gerry Scotti quello che maggiormente è entrato nel cuore del pubblico è stato Niccolò Scalfi, seguito da Christian Fregoni, bagnino di Brescia Tra i punti di forza di Caduta Libera spicca la possibilità dei concorrenti di cadere e tornare in gioco, quello che accade un po' nella vita di tutti i giorni È ciò che è accaduto, ad esempio, a Gabriele Giorgio, che è diventato tra i campioni più acclamati del programma La trasmissione non è sempre stata girata negli studi di Cologno-Monzese dove viene lavorata attualmente Infatti, le prime 48 puntate dello show erano state girate all'estero La prima puntata da lui condotta aveva il compito di essere uno speciale e di ospitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui la sua amica Valeria Marini Perché sono intervenuti i vigili del fuoco.Proprio in merito a quella puntata di Caduta Libera, Gerry Scotti ha scelto di rompere il silenzio a circa un retroscena Lo ha raccontato sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni Il retroscena riguarda proprio una degli ospiti VIP di quella prima puntata ovvero Valeria Marini Il conduttore ha raccontato che proprio lei aveva rifiutato di togliersi le scarpe con i tacchi Del resto, la showgirl ci tiene molto alla sua immagine e, da diva qual è, difficilmente fa dietro front su quello che pensa e crede Proprio per quel motivo, dovettero intervenire i vigili del fuoco Il tutto si concluse per il meglio, Gerry, Valeria e gli altri andarono tutti a cena insieme Fu una puntata scoppiettante che, però, portò bene a Caduta Libera che da esperimento televisivo è diventata uno dei classici di Canale 5 Un altro ospite VIP si è comportato un po' sopra le righe Si tratta di uno degli attuali concorrenti del GF VIP ovvero Amaurais Perez L'uomo, nonostante sia un atleta alto 2 metri, ogni volta che doveva cadere durante lo show non riusciva a trattenere le lacrime per l'ansia Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video